. Cara Anna, vorrei dirti tante cose. Vorrei dirti come la vita è come va affrontata. Vorrei trasferirti in un modo di fare e di pensare. Anna, perché fai così? Non li voglio più, i regali della mamma. Vorrei esserci nei momenti di difficoltà. Ma non si può. Il destino ha deciso così. Tutti gli anni con questa cazzata dei regali, ma perché? Ma cosa pensi che stai male solo tu? Ma tu c'hai mai pensato a me? Lo so, starai pensando. Ancora questi regali, che palle. Ma tu non sei quanto mi ha fatto bene. Questo è il mio ultimo regalo e spero che ti piaccia. Ora sei diventata madonna. E io ti amo alla follia. La tua mamma. La tua mamma. Ancora questo regalazione. Ancora questo regalazione. è il mio ultimo regalazione. La tua mamma.